Foto per te col Verona numero? 4 Tutte molto belle Sì, diciamo che sono 3 anni sabato, sono arrivato il 9 novembre Tutti anni bellissimi, insomma dobbiamo essere ancora più bravi a farli continuare però oggi ho visto insomma una bella foto per immortalare anche insomma un momento positivo Sperate sotto la curva, quella curva che ti vuole tanto bene? Beh, vuole bene a me, la squadra, la società, quindi insomma 3 anni di grandi momenti Aspetta a noi farlo durare il più possibile, ce la metteremo tutta Grazie mister, buona giornata Grazie a voi, ciao